A volte per fare una cosa giusta bisogna rinunciare a ciò che vogliamo di più Tutti i giorni mi sveglio sapendo che più gente cercherò di salvare Più nemici mi farò Posso dimostrare che sono finalmente Chiunque può indossare la maschera Ma quello che conta è come si indossa Intro che avevamo già visto No, un attimo, esiste una squadra con tutte le migliori spider persone Spider One, Spider Punk, Spider Ninja Incredibile Questa è la lobby Di Carlo Ars Tutto questo è una sua idea Che combattere contro la poltogna Tu non puoi farne parte E non cominciare con il Dottor Strange e il piccolo nerd su terra 19,99,99 E dai, facci piano col ragazzino Ha avuto un insegnante terribile Io ho già visto il trailer, logicamente Solo che vengono fatto la riace Vedai la figlia Ora ci penso io Essere Spider-Man è un sacrificio Devi scegliere tra salvare una persona O salvare un intero mondo Mandami a casa Non lo posso fare Farò entrambe le cose Spider-Man riesce sempre Non sempre E lo zio Ben Se non fosse per lo zio Ben La maggior parte di noi non sarebbe qui Non posso perdere un altro amico Miguel, non avevamo detto questo Lo sapete? Tu non sai che cosa stai facendo Tutti non fanno altro che dirmi Come dovrebbe andare la mia storia No Farò a modo mio A tutte le rite affermate Spider-Man Spider-Man Di Ben Ryan Spider-Man 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 dall'hob psicologo E tutti gli Spider-Man che ricorrono Miles Dall'uno Dall'uno giugno Io pensavo il due Forse in America l'uno giugno No No potrebbe essere Potrebbe essere che in Italia esce l'uno Perché di solito in America esce un goccio dopo E il primo trailer Ce lo siamo fatti andare Adesso passiamo al secondo Cioè Secret Invasion Serie Del Marvel Cinematic Universe Che uscirà anche questa a giugno L'hanno spostata Doveva uscire se non sbaglio a marzo-aprile E l'hanno spostata a giugno Forse vogliono contare di più alla qualità Rispetto alla quantità Meglio così Fury Fury Da quando sei andato via Le cose sono precipitate Proprio stile d'arte Quanto di Capitano America Perché credi che sia tornato? Voglio anche capire che sta contemporanea Non sei nelle condizioni di affrontare questa battaglia Amico mio È un fatto personale Siamo in pochi a conoscere le guerre Che hanno sfiancato il pianeta Combattute nell'ombra Ti senti colpevole? Mi piace molto il nuovo stile di Niko Dove sono gli Avengers? Bella domanda È una guerra che devo combattere Da solo Sei la persona più ricercata sul pianeta Alterscune Non sai cosa hanno in mente per te War Machine Shield C'era il logo del shield E' un grande Nick Fury Che roba Che sognare Quello Venom Un'ultima battaglia Secret Invasion Ci sta Ci sta Disney Plus Dal 21 giugno No 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 È partito un altro video È partito un altro video Cambiamo subito Cambiamo subito Usciamo È partito un video di Victor Lasso E vabbè Oh grande però Non è questo E poi adesso passiamo a Blue Beetle Blue Beetle Beetles Beetle Boh Ok va bene 2023 trailerita Niente in realtà Non è un Da ciò che ho capito Non è un superiore molto famoso Infatti io Devo essere sincero Non lo conosco Ne ho sentito solo un po' Parlare Da altri youtubers Ma non ne so niente Quindi Andiamo a vedere questo trailer Mi scusi Signor Reyes Finito di grattare via La gomma dal lettino Tra l'altro questo dovrebbe essere Direto da James Forse Non lo so Non lo so Non escono molto Il stile però lo posso dire Non lo so Proteggela a costo della vita Ma non aprirla Dovevi trovarci un lavoro E sei tornato con un hamburger Non credo sia un hamburger Non l'hai aperta Ma che diavolo è Lo scarabieo Lo scarabieo Come sei riuscito a farglielo fare? Che bui piacere Questo qui teoricamente Si trasforma nell'arma più Ce l'hai sbagliato Coglimelo 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 Questo scorsione Gli dona dei poteri Ti sei bucciuta Ti sei bucciuta Ti sei bucciuta Oh mio Dio Ma che è successo? Si sta allatterando tutto però Ma cosa? Mico? Ospite acquisito La CGI Tranquilli Andate per me Però sì Mi piace molto Vabbè le seguite CGI Sono uno spazio Sistema di rientro attivato Aspetta Non te sei bucciuta Ti sei bucciuta Ma come hai detto Spazio non è mangiato Ti sei bucciuta Ma che succede? Aspetta Si chiama Scarabelle È una specie di arma distruttiva È concepito per proteggere chi lo ospita Ti sei bucciuta A volte fa quello che vuoi Ma a volte no Forse ho tagliato un autobus a metà Lo Scarabelle ha scelto te Ma appartiene a me L'amore che provi per la tua famiglia Ti rende debole L'universo ti ha mandato un regalo E devi capire in che modo sfruttarlo Ogni cosa che puoi immaginare Io posso creare È una madonna Ma chi è? Ma chi è? Un attimo È robata Batman Batman è fascista Batman è fascista Cosa? No no mi dissocio Io mi dissocio Perché Batman è... Vabbè ok Noi ci dissociamo comunque Perché E niente Questo qui era l'ultimo trailer Per oggi Che ho voluto reagire Forse era uscito anche qualcos'altro Ma non lo so Qualcosa a cui non ho fatto la reaction Forse qualche trailer di Super Mario Ma lasciamo stare Le cose principali erano queste Ragazzi Io vi invito ad andare a vedere Il video che è uscito ieri No in realtà l'altro ieri per voi Perché per voi è giovedì Dove ho mangiato la patatina più piccante al mondo Ve lo lascio qui nelle schede E niente Noi ci ripetiamo ad un prossimo video Bye nerd Buongiorno Ciao Grazie a tutti